Marzo, è il mese di Pedro Almodovar, su Sky Cinema Mania. Lasciati ossessionare. CSI, in nuovi episodi. Ogni giovedì alle 21 in prima sonda, su Foxcrime. E' nata la Vodafone Sky TV, segui il meglio di Sky sul cellulare più innovativo del momento. Le news di Sky TG24 e Sky Sport 24, le serie di Fox, lo stile FX, i video di DJ TV, i programmi Disney, il divertimento di Sky Show. E con i canali Sky Calcio, il meglio di serie A, serie B e la UEFA Champions League. Puoi avere Sky sempre con te con il nuovo videotelefono LG, in esclusiva per i clienti Sky a 0 euro. Vodafone, life is now. Se i film sono la tua passione, chi può darti di più di Sky Cinema? Tutte le grandi star e le anteprime più attesive. Sei bellissima. Come è assoluto il tema. Sempre nuove proposte, in esclusiva. Rassegna, dedicate agli appassionati di tutti i generi. Questo è aprile su Sky Cinema. Eccoci arrivati, andiamo, su. Oddio, che è? Che è? È un drago. Ah, beh. Ecco, pronte vostre auleule d'olotechino. Ma che è? Ah, non piace? Allora, io offri le caffè. Questo è caffè. Qualità olo. Guarda. Olo. Senti, dai Cina col furgone. Fa una cosa. Bele date, sta zozzeria. Beh? Oh, no. Perché questo è qualità oro. La pazza non si può imitare. Cosa fa lì adesso con il mio olo? Ma questo da che terra viene? Cina. Da terra Cina? No. Due contro uno, non c'è sto. Dov'hai, oh? Un uomo, un voto. Elezioni libere e legali per tutti. Libertà! Sono ideali per i quali uccideresti. Sono ideali per i quali morirei. Forse stiamo scrivendo una pagina di storia e io voglio far da parte. Novità da Vileda. La scopa elettrica senza fili. Le spazzole rotanti catturano lo sporco e la polvere su ogni pavimento e negli angoli più difficili. Getti via lo sporco e poi la ricarichi come un telefonino. La nuova scopa elettrica da Vileda. La bellezza ha un gusto. Il... Il calcare è già tornato! L'avevo pulito con questo. Prova il numero uno. Via Cal non solo rimuove il calcare. Ma è l'unico che in più nevita il ritorno. Sì, e la sua azione dura tre volte più a lungo del tuo prodotto. Ah, ecco perché Via Cal è meglio. Posso rimanere nella doccia tre volte più a lungo. Via Cal protegge tre volte più a lungo. E con il nuovo Via Cal Aceto Spray anche la tua cucina ritrova la sua naturale brillantezza. Nuovo Via Cal Aceto Spray. Hey, this is the World Heavyweight Champion Batista from the WWE and I will see you at WrestleMania live on Sky Prima Fila. Domenica 1 aprile in diretta a luna di notte. WrestleMania 23. Acquista subito. Prendi il tasto Prima Fila. La bellezza ha un gusto. Il... La prova più difficile per Gran Pesto di Guglio Star conquistare i genovesi. E allora? Vi piace il mio pesto? Buonissimo. È un pesto pronto. Sì, è vero. Star, il tuo segreto in cucina. Sì, è vero. Gli anni 70 sono anni particolari perché... Grazie. Grazie.